Ciao, sono Thea Falco. Grazie all'invito della Movie in Fest 2021 sarò giurato della selezione ufficiale Aquila Reale d'Oro per questa prima edizione del Festival Internazionale d'Arte Cinematografica in Movie Fest. Quindi scrivete la vostra opera sul sito in moviefest.com, mi raccomando. Vi aspetto tutti dal 24 agosto e settembre a Pescara. Ciao!